Tieni punti uccidendo nemici, completando contratti e catturando obiettivi. Siamo al comando! Hai perso il comando, soldato! Beccato in pieno! Siamo al comando! 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 Ci sono munizioni qui! Drone e M.P. in volo. Un'attività, un'attività! U.A.B. alleato in sorvolo. Avvio scansione radar. Un'attività, un'attività, un'attività. Ulti dominio in arrivo! Tutti al fumo verde! Ulti dominio attivi! Andate e catturateli! Sì 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 Non questa volta Il nostro team ha catturato un punto dominio Hanno lanciato un UAV avanzato Siamo esposti Colpi in arrivo Incremento velocità Incremento velocità Siamo in arrivo Tutti al fumo verde Sono nel loro mirino Hanno lanciato un UAV avanzato Siamo esposti Busti dominio attivi Andate e catturati Andate e catturateli Andate e catturateli Siamo esposti Siamo in arrivo Siamo in arrivo Siamo in arrivo Piazza un secondo punto dominio. Piazza una mina anticarro. I nemici hanno catturato un punto dominio. Hanno lanciato un UAV avanzato. Siamo esposti. UAV alleato in sorvolo. Avvio scansione radar. Nemico! Piazza una mina anticarro. Punti doppi. Un team nemico vi sta braccando. Occhi aperti. I nemici sono a metà dell'opera. Potete ancora farcela. Assegno. I nemici sono a metà dell'opera. Potete ancora farcela. Punti più o Punti nuovigil Wright. Dronepomba alleato attivo Marcatura bersagli prioritari imminente Prepararsi alla caccia UAV nemico in volo Ora sei un bersaglio prioritario Sopravvivi a tutti i costi Bersaglio prioritario alleato eliminato Proteggeteli a ogni costo Punti doppi UAV alleato in sorbolo Avvio scansione radar Ha lasciato un UAV avanzato Siamo esposti Sono nel loro mirino Un UAV avanzato alleato Segnala bersagli e vettori Piazza una mina anticarro Bersaglio prioritario alleato eliminato Proteggeteli a ogni costo Abbiamo colpito Ottimo Bersaglio prioritario inimico abbattuto Hanno lanciato un UAV avanzato Siamo esposti Attenzione C'è un Juggernaut nemico Attenzione Bombardamento di precisione alleato in arrivo Ottimo Bersaglio prioritario nemico abbattuto Sono munizioni qui Ottimo Bersaglio prioritario nemico abbattuto Meno di un minuto Siamo agli sgoccioli Forti Ottimo lavoro soldato Sei riuscito a sopravvivere Mi attaccano Trenta secondi Tempo scaduto Muoversi Andrà meglio la prossima volta Soldato Andrà meglio la prossima volta Andrà meglio la prossima volta